Siamo a pesca. Let's go fishing! Ciao amico, non aver paura, vieni, vieni, non aver paura, vieni, vieni amico, amico, vieni amico, bravo, bravo Tattu, bravo Tattu, bravo cagnone, anche tu, tutti e due, tutti e due bravi, vieni anche tu, qui, tra l'Occione, bravi, bravi, ci vediamo dopo, ciao, ciao Tattu, ciao bravo, bravo, ciao amico, ciao, bacino. Let's see if I have... And I thought that I saw from behind the cave before, but I thought it was a rock. No, no, perfect, we just missed it, a big seal to destroy completely. We cast like that or not? Yes, but... The seal, eh? The seal, ok, let's cast anywhere. We don't care? Viva! Viva la foca! Bah, mo' c'ha visto, se ne sarà andata, come se ne saranno andati pure eventualmente due pesci che c'erano. E vabbè dai, lanciamo uguale. Il posto è bello, caratteristico. Ok, proviamo il cast hacker. Ci mettiamo qua in alto. Allora, prima stavo pescando con un jig, ma l'acqua è completamente verde. perché deve avere piovuto tantissimo, quindi l'acqua è rimasta di un colore indegno. E allora proviamo un cast hacker un po' più lento. E vediamo se qualcosa lo gradisce. Vediamo se qualcosa lo gradisce. E' un po' di posidonia, la prendo. Io voglio ritorno al lato. giga non la sento più col giga ma la sento più di giglio faccio un gig lento faccio lavorare bene vicino al fondo mi deve mangiare lavoro bene vicino al fondo transillo transillo transolo transollo provo un sardine slider 80 grammi bello pink ballo in mano nel casto un po' Allora, cerco di lavorarlo bene lento vicino al fondo La visibilità è bassa, molto bassa C'è l'acqua, la vedete, è verde Sembra un lago di montagna Sporco, un lago di montagna sporco Dopo le piogge Dopo le piogge Ogni domanda compondo un verso Wow, 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 wow Che pesce è partito l'antirittorno che pesce a beast a big amberjack mamma mia che vitellone quella è una ricciola di quelle possenti ho fatto partire l'antirittorno devo cambiare i cuscinetti a rulli il mulinello c'ha vent'anni non è che uno può pretendere poi entrava quello meccanico entrava l'antirittorno meccanico però un paio di un paio di giri me li ha fatti perdere non è una bella cosa sentire sentire l'antirittorno che parte così eccoci ritornati al campo base eccoci qua ragazzi allora rifaccio il nodo e metto un uovo leader rimonto un 60 che insomma è bello tosto il 60 ma in queste rocce qua a seconda di dove gira il pesce lì deve aver girato proprio su una roccia taglientissima ci sono delle rocce che sono rasoi come ha toccato boom è saltato è proprio scoppiato il terminale ma poi con quella tensione quando ero ero praticamente in piena tensione quindi quando il flore tocca esplode praticamente era un pesce grosso era un pesce davvero grosso non me l'aspettavo lo stris sono 80 grammi sardine slider 80 grammi sardine slider allora allora ci abbiamo fatta siamo pronti per fare come diceva Califano ricominciamo e dai entra malefico eccoci qua vai rifatto il nodino ho un sardine slider e sono pronto per ricominciare ma se stavolta mi mangia la voglia gliela faccio passare eccoci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non, 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 non. È un dentex. È un dentex. Sì, pensi che puoi riposare? Penso, ma provoci la condizione del... Il dente. Il dente. Non è un dentex. Non è un dentex. Quindi posso riposare? Si, ovviamente puoi. Ma in tuo posto? Non preoccuparti, non preoccuparti. Poi prendo un bel video. Ok. Ok. Questo è quello che voglio portare a te. Ok. È un dentex. È un dentex. Ok. Ok. Buongiorno. Ok.